Io dico spesso che il Movimento 5 Stelle non è né filo russo né filo americano ma è filo italiano. Non ce l'abbiamo minimamente con gli Stati Uniti d'America, uno come De Luca negli Stati Uniti d'America non si sarebbe mai potuto candidare. Quel che diciamo e sosteniamo è che notiamo che vi sia stato negli ultimi 30, 40, 50 anni un appiattimento eccessivo sulle posizioni nordamericane. Cioè un essere più che alleati sudditi e questo si vede quotidianamente e si vedrà ancora di più qualora dovesse essere approvato un trattato che noi reputiamo nefasto, il trattato di libero commercio con gli Stati Uniti d'America perché ci impone alcuni vincoli e delle restrizioni per la nostra economia drammatica e le stesse vincoli e le stesse restrizioni che ci sono state sempre imposte da Washington tramite l'Unione Europea quando siamo stati costretti ad accettare le sanzioni nei confronti della Federazione Russa. Ci auguriamo che da questo convegno possa nascere innanzitutto una maggiore approfondimento e conoscenza appunto di quel che sta avvenendo nel mondo e che non finisce mai o perlomeno quasi mai nelle pagine dei giornali, dei principali giornali o nei servizi dei principali telegiornali. Se siamo tenuti all'oscuro di moltissime questioni appunto di quanto il mondo sta cambiando e sta cambiando velocemente il Movimento 5 Stelle fa anche questo. Cerca appunto di condividere delle informazioni, di invitare degli ospiti internazionali e di fare in modo che il popolo italiano sia anche dal punto di vista intellettuale sempre più sovrano. Questa cosa che sta facendo il Movimento 5 Stelle oggi penso che sia la prima che accade, la prima che viene organizzata da un partito politico italiano. Il fatto che lo faccia una forza di opposizione e che lo facciamo noi significa veramente che c'è qualcuno che ha uno sguardo verso il futuro e qualcun altro che si sta isolando totalmente da quello che è il nuovo mondo. Purtroppo in questi anni abbiamo constatato di vivere in un regime di vera e propria violenza economica. Una violenza operata da istituzioni bancarie, lobby monetarie, organismi non eletti che ci impongono il metodo del debito o del credito a seconda della parte dalla quale si guardi. E mentre in Italia la produzione industriale scende del 25%, mentre nel primo semestre del 2014 in Italia 8101 imprese hanno dichiarato fallimento, mentre ogni anno 125.000 italiani tra i 25 e i 40 anni lasciano il loro paese per non tornarci mai più, c'è chi come Renzi, come il governo italiano e come i partiti di maggioranza inneggiano un ritmo di mantra a più Europa. Ce lo chiede l'Europa, magari loro per l'Europa intenderanno pure solidarietà, pace, cultura, ma nella realtà tutto questo si traduce in Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, Banca Centrale Europea e Commissione Europea. Quelli che ti riducono sull'astrico, con la complicità dei politici, e poi ti salvano, ti salvano, prestandoti soldi e poi ti posseggono attraverso il debito. È un meccanismo collaudato, perfetto, che funziona esattamente così. Da agosto a dicembre del 2014, dati Istat dicono che è andato in fumo circa un miliardo e 300 milioni di ricavi, ovvero l'11% delle esportazioni italiane in Russia, il che dimostra come le azioni diplomatiche intraprese dal nostro governo verso la Russia, siano del tutto controproducenti. Le sanzioni UE varate contro Mosca e sostenute dal governo pesano fortemente sul tessuto della nostra economia e mettono a rischio la sopravvivenza delle nostre imprese. Anche Gazprom, proprio ieri, ha rescisso un contratto con Saipem, che è un'azienda controllata Eni, quindi fino a prova contraria ancora a maggioranza dello Stato italiano, quindi dovrebbe ancora fare gli interessi dello Stato italiano, con perdite stimate di 2,2 miliardi di euro. Ecco, questi che vi abbiamo appena raccontato sono i risultati degli euroinomani. Io li chiamo euroinomani, quelli tossici e drogati di euro. Io credo che i BRICS di oggi sono una risorsa di domani, saranno una risorsa di domani se diretti da forze politiche che sappiano costruire un nuovo ordine in cui ci sia rispetto per la sovranità e la determinazione dei popoli, dove ci sia cooperazione e non competizione, dove ci sia sviluppo e non crescita fine a se stessa, e si allontanino dal mondo delle superpotenze che destabilizzano interi paesi finanziando e fomentando guerre devastanti. La prossima sfida è una sfida ancora più ambiziosa, quella di creare un'economia mondiale della felicità e per farlo sarà obbligatorio ridurre il potere delle gigantesche banche e corporazioni e rompere gli attuali sistemi monolitici in pezzi abbastanza piccoli per permettere alle persone di vedere e scegliere che tipo e che forma di economia vogliano. Noi questa sfida l'abbiamo aperta, questa sfida si chiama democrazia diretta e siamo sicuri che riusciremo a creare una nuova comunità mondiale. Chissà se un giorno con queste condizioni non si aggiunga magari anche un'altra I a quello che è il nome BRICS. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.